Ecomondo è l'appuntamento annuale nel quale si ritrova il mondo dell'ambiente. Di conseguenza è l'occasione perché tutti gli anelli di una catena, che è quella del riciclo, si possano incontrare anche fisicamente. È una maniera di umanizzare un lavoro importante come quello svolto da Coreve che garantisce l'avvio al riciclo dei rifiuti di imballaggio in vetro dopo il consumo. Grazie per la visione!